Dalla Finlande via Berlino, siamo andati un po' a est, andiamo ancora un po' più a est, insomma lì non troppo lontano, Repubblica Ceca, saluto Ratka Neumanova, benvenuta. Grazie mille, buonasera a tutti. Qui nei nostri studi dell'RSI a Milano, per la Rete 2, perché in un certo senso ha messo uno zampino in una rassegna interessante, l'abbiamo intercettata tra le tante cose che succedono a Milano, c'è una rassegna di cinema europeo contemporaneo che ha anche un po' di Svizzera, spiegheremo dopo cosa e come, ma ci spieghi magari che cos'è questa rassegna e perché lei ha uno zampino importante? Allora comincio forse dallo zampino, allora Repubblica Ceca perché a Milano esiste, come in tanti altri luoghi in Europa e in tutto il mondo, esiste una rete che si chiama EUNEC, sono istituti culturali che si uniscono insieme per presentare insieme i programmi culturali di vari paesi d'Europa, e a Milano Repubblica Ceca attualmente è presidente di questa associazione culturale. Quindi anche noi ci è capitata, e lo dico che abbiamo vinto la lotteria, perché abbiamo organizzato e messo in piedi questo festival, festival che si chiama Giornate del Cinema Europeo Contemporaneo. Volevamo specificare che fosse il film contemporaneo perché ci teniamo veramente tanto a presentare i film di massimo due anni di produzione che presentano anche un'immagine attuale d'Europa, che raccontano le storie che succedono, che viviamo quasi tutti noi e che incontriamo nelle nostre vite. E dalla Repubblica Ceca che cosa avete selezionato, che cosa mostrate? Allora, dalla Repubblica Ceca martedì è stato in proiezione il film d'animazione di un giovane regista emergente che combina le varie tecniche di 2D, 3D, io dico perché alla Repubblica Ceca non potevamo presentare nient'altro che film d'animazione per la nostra tradizione enorme, sì, da Trenka a Schwanckmayer, e penso che questo giovane regista, Ambu Benice, che ha raccolto molto bene la tradizione di tutte e due grandi nomi. Eh, speriamo magari chi lo sa, perché la distribuzione anche poi è un problema, queste rassegne sono preziose perché appunto permettono di mettere insieme in rete associazioni e vedere film particolari. Un film come questo, intitolato in italiano Le storie mortali, varrebbe veramente la pena, anche perché pensiamo alla produzione svizzera La mia vita da zucchina, Mavido e Courgette, adesso è candidata all'Oscar, e sono produzioni interessanti, eh, che toccano anche pubblichi, diciamo, trasversali. Sì, sicuramente, infatti il nostro scopo era, il nostro obiettivo era quello di presentare i film che difficilmente si fanno la strada nelle sale italiane con le grandi distribuzioni, magari non sono nemmeno film d'arte, però sono i film dei registi, ma che sono un po' ai margini degli interessi, delle grandi distribuzioni europee e internazionali, che purtroppo il business del cinema oggi è difficile, e il nostro scopo è quello di aiutare a presentare anche quelli che non sono proprio i film di Hollywood o film di grande produzione. Quindi, cinema europeo c'è, esiste, e noi lo presentiamo, e questo è quello che dobbiamo fare. E il film svizzero, invece, che viene presentato è Sette Giorni, di Rolando Colla, che ha girato tra l'Italia e la Svizzera, un film che era stato presentato a Soletta nell'edizione di qualche settimana fa. Voi proiettate i film al Cineteatro San Carlo, è un cinema vero e proprio, e l'entrata è gratuita? Esattamente, perché non volevamo escludere nessuno, perché anche la prima edizione è stata all'ingresso gratuito, allora il nostro impegno è anche economico, e quindi sosteniamo il festival da tutte le nostre risorse per permettere sì che l'ingresso rimane gratuito e aperto a tutti. E come funziona il dialogo tra i vari centri culturali? E riflette le difficoltà che l'Unione Europea ha a Bruxelles e da altre parti? Oppure invece si va d'amore e d'accordo perché il pane è comune e la cultura? Allora la cultura sicuramente ci unisce e crea una piattaforma di comunicazione un po' più facile, però io dico che siamo stati un po' dei sognatori, che abbiamo detto allora facciamo il festival e non sapevamo nemmeno che lavoro ci fosse dietro. Allora da Amater Assoluti abbiamo messo in piedi una bellissima iniziativa e vorrei sicuramente ringraziare tutti i miei colleghi perché sono stati bravissimi e anche loro da Amater hanno seguito passi per passi e penso che l'accordo c'era abbastanza facile. Ovviamente ci si rispettano tra i piccoli e i grandi paesi delle difficoltà, però penso che riusciamo a superarli. E la lingua che si utilizza di più? È italiano. Ah beh questo è interessante ed è bello, non lo davo per scontato. Ripeto la rassegna, giornate del cinema europeo contemporaneo è iniziato il 14 ma andrà avanti fino al 18 e potete vedere questi film al Cineteatro San Carlo, è un'occasione veramente utile, interessante per vedere film da una decina di paesi europei che altrimenti probabilmente non si potrebbero vedere ed è un modo così per vedere, godere un'Europa che non è la solita dei giornali di politica. Ratka Neumanova, io la ringrazio però mi diceva a microfoni spenti che voi state organizzando anche una retrospettiva dedicata al grande Milos Forman a marzo. Sì perché in questi giorni Milos Forman ha compiuto 85 anni, il grande personaggio nato in Cegoslovacchia con i primi film che ha fatto durante gli anni 60 che sono stati poi quelli che hanno permesso la sua carriera in America. lui ha iniziato lì, poi faremo la retrospettiva che partirà da Bergamo. Ed è itinerante, andrete in varie città d'Italia e non solo sarà un'occasione per vedere film ma anche per vedere oggetti e costumi di scena. Esattamente, a Bergamo in collaborazione con Bergamo Film Meeting che partirà il 10 marzo, ci sarà anche la presentazione della mostra dei costumi di film da Oscar di Amadeus e Valmont che accompagnerà questa retrospettiva che sarà in corso per tutta la durata di Bergamo Film Meeting e poi andrà a Bologna, Torino e Roma. Grazie Ratka, Noimanova del Centro Culturale Cieco Grazie